buon pomeriggio a tutti da valerio rossi di vr finanza smart education school con questo mio video volevo semplicemente ribadire tutti i concetti che sono stati espressi nell'evento perché bitcoin al fine di dare la possibilità a tutti i visitatori del canale youtube vr finanza e del sito vr finanza smart education school di avere a disposizione in qualsiasi momento tutte le informazioni importanti e basilari per comprendere profondamente bitcoin cosa è e il suo vero valore ma andiamo a vedere esattamente quello che il contenuto di questo di questo evento partendo dall'inizio ecco qua e quindi partendo ovviamente dal perché bitcoin caratteristiche e peculiarità vediamo un po quindi da questo punto di vista quello che è il l'importanza che bitcoin può avere nell'ambito ovviamente della nostra vita attuale e anche futura vediamo un po in particolare è importante questa informazione che è da considerarsi esclusivamente di carattere informativo ed equativo che relaziona non fa promozione finanziaria non sollecita il pubblico risparmio e non invita il pubblico ad alcun investimento è relativa come dicevamo appunto prima alle caratteristiche e al funzionamento particolare al mercato di riferimento e a far conoscere il funzionamento le condizioni operative dello stesso e anche il rischio che queste operazioni possono comportare che cos'è bitcoin bitcoin è una valuta digitale decentralizzata sicura e non falsificabile è una valuta resiliente nessuno può fermarlo o distruggelo non è sopportata dal governo e organizzazioni finanziarie bancarie è disponibile 24 ore su 24 365 giorni all'anno non ha bisogno di terze parti intermediari non è supportato da alcun bene o riserva of work transazioni instantanee peer to peer punto punto è la tipologia di transazione dal punto di vista tecnologico sicurezza criptografica incentivi sinergici ed economici dei miners minatori cioè coloro che si occupano sia della manutazione ma soprattutto dell'estrazione di ogni singolo bitcoin o frazione dello stesso commissione di transazione bassissima efficienza per tutti in tutto il mondo senza limitazioni geografiche ma vediamo subito la base tecnologica la base tecnologica è la blockchain che è semplicemente un registro decentralizzato e distribuito che registra provenienza di una risorsa digitale e per progettazione intrinseca i dati su una blockchain non possono essere modificati il che rende un sistema innovativo per settori come pagamenti sicurezza informatica e assistenza sanitaria che cos'è la blockchain a volte indicata anche come distributed ledger technology rende inalterabile e trasparente la storia di qualsiasi risorsa digitale attraverso l'uso della decentralizzazione e dell'hashing criptografico innovazione permissionless permissionless vuol dire senza permesso nessun meccanismo centralizzato di sicurezza nessuna barriera di accesso e nessun controllo editoriale cosa rende speciale bitcoin bitcoin è digitale scritturale esso esiste solo quale transazione validata è un bene digitale nessuna responsabilità può essere trasferito ma non duplicato scarso nel settore digitale come nient'altro prima imita la politica monetaria dell'oro di diminuire l'estazione bitcoin è oro digitale o quantomeno è denominato è stato denominato in questo senso con una rete di insediamento recuperata e sicura e non censurabile più una cripto commodity con una cripto valuta e cripto commodity significa più una merce di scambio piuttosto che un valore economico come siamo abituati a conoscere il denaro con tutte le sue forme questo è il risultato straordinario oltre che rivoluzionari di satoshi nakamoto questo anonimo anonima o gruppo di persone che hanno inventato bitcoin e non la tecnologia blockchain che è la tecnologia sottostante di bitcoin bitcoin e la blockchain non è una tecnologia mancamere di paradigma culturale picco risolve il problema della doppia spendibilità come abbiamo visto prima è equivalente digitale dell'oro è rilevante quanto l'oro e per il futuro della civiltà del denaro e della finanza sta già avviando nuovi sistemi monetari nessuna correlazione con altri asse classe investire bitcoin è una diversificazione razionale o semplicemente una diversificazione anche di portafoglio bitcoin come asse di investimento ha un enorme potenziale di rialzo il tempo dirà che se la scassità dell'energia digitale economicamente e teoricamente sostenibile bitcoin è sicuro la tecnologia peer to peer la per cento il sistema relativo bitcoin rappresenta la massima sicurezza oggi disponibile al mondo è inaccurabile significa che non può essere rubato o modificato ovviamente se uno perde le password chiaramente può perdere il proprio valore ma questo sta proprio nella diligenza delle persone di conservare in maniera appropriata le proprie password di accesso per poter disporre di questo valore che in questo caso si chiama bitcoin ma il bitcoin è affidabile facciamo una piccola comparazione con quello che è il mondo tradizionale bancario ed in particolare le somme di denaro presso una banca come vedete l'articolo 1834 quasi civile chitta e nei depositi di una somma di denaro presso una banca questa ne acquista la proprietà è obbligata a restituire la stessa specie monetaria alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante con osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi nella maggior parte dei casi e questo viene regolato da un contratto famoso contratto di conto corrente che vale sia per le banche che anche per le forze italiane che sono paragonabili per servizi e per contratualistica riguardante appunto il deposito del denaro e quindi vale questo concetto che a molti ovviamente è sconosciuto ma non è tutto nei vostri depositi le banche oltre che avere la loro proprietà se vanno in fallimento all'amministrazione possono per legge si intende trattenere e utilizzare se avete dovuto che piace di più per i vostri soldi per appianare i loro problemi. La famosa legge Beijing che è stata ratificata dalla una una direttiva europea alcuni anni fa e che prevede ovviamente che oltre il 100 mila euro di deposito in titoli e contanti presso un conto corrente se la banca dovesse avere dei problemi può legalmente appropriarsene per andare a ripianarli. Sotto i 100 mila come vedete dalla freccia garantiti da un fondo senza soldi che è il famoso fondo per la copertura dei risparmiatori in Italia. Chiaramente è un'ipotesi remota e assolutamente improbabile però è importante che sappiate anche da questo punto di vista che non è sempre sicuro e certo quello che abbiamo sempre dato per certo. Binance e le banche ovviamente scusate bitcoin e le banche alle banche non piacciono i bitcoin ed è facile questo sulla destra è un grandissimo imprenditore americano che ovviamente ha fondato uno tra i più grandi fondi in in criptovalute perché ha creduto immediatamente a bitcoin in particolare e allo sviluppo dell'industria appunto legata alle criptovalute. Perché si parla del bitcoin come oro digitale? Perché il numero è limitato quindi protegge il valore, è difficile da estrarre come l'oro, è scarso perché ovviamente bitcoin prevede 21 milioni di pezzi complessivamente non di più, verosimilmente l'ultimo bitcoin sarà emesso nel 2140 però diciamo ad oggi 29 aprile del 2023 siamo già intorno ai 19 milioni e 370 mila bitcoin emessi. Divisibile e fluibile, facilità di utilizzo digitale, facilmente trasportabile, decentralizzato, no governi e banche nel senso che non possono influire sul valore di bitcoin unico e non può essere contraffatto come abbiamo detto prima. Se i soldi che pensavate fossero vostri sono della banca e se la banca ha problemi e va in fallimento vediamo però cos'è effettivamente ad oggi 29 aprile del 2023 a 9,52 la capitalizzazione di bitcoin che è intorno ai 568 miliardi di dollari, poi a oltre 511 miliardi di euro e rappresenta il 45,4 intero mercato, praticamente la metà del mercato di criptovalute rappresentato più o meno da bitcoin. È un valore ovviamente immediatamente scambiabile su tutti i principali exchange, famosi cambi a valute, del mondo senza limiti e convertibile in fiat, valuta fiat che significa euro, dollaro o stellina, diciamo le valute governative, traduciamo in questo senso. Cinque strade impignorabile, è un asset riconosciuto a livello mondiale sottostante diversi strumenti finanziari come ETF, ETC, fondi, eccetera. È un valore inaccurabile e sicuro rimane inalterato anche se non funziona internet. Ma voglio darvi alcuni riferimenti importanti ed ascoltiamo insieme questo video molto interessante. È un dato di fatto che le valute abituali oggi non sono supportate da nient'altro, da nient'altro che le nostre convinzioni e le banche centrali di tutto il mondo stanno tenendo il nostro futuro saldamente nelle loro maglie. Denaro è sinonimo di potere e questo potrebbe veramente esservi utile, se siete disponibili ad ampliare le vostre vedute e imparare la verità sul denaro. La crisi finanziaria del 2008 ha messo praticamente in ginocchio il sistema finanziario internazionale. I banchieri delle banche centrali e gli enti di vigilanza sono responsabili della cattiva gestione della crisi. Tantissime persone ed aziende sono andate in fallimento da un momento all'altro, ma al tempo stesso sono nate opportunità incredibili. Ci sono sempre due facce della stessa medaglia e dopo secoli di sfide economiche siamo sul punto di scoprire che esistono strade migliori. Dalla crisi del 2008 è nata una delle maggiori opportunità finanziarie di sempre ed in un attimo ha messo in discussione l'intero sistema monetario. La criptovaluta è stata creata dopo anni di frustrazione e di sfiducia verso il sistema bancario e monetario. La criptovaluta è diventata realtà La blockchain di bitcoin è stata messa a punto nel 2008 e, nonostante le critiche degli enti finanziari, delle istituzioni, dei governi e dei media, ha registrato un aumento di valore incredibile. Solo tra il 2008 e il 2013 il valore di una singola moneta è passato da 0,1 dollari americani ad oltre 1.100 dollari americani. Le persone che hanno investito in bitcoin sono diventate multimilionarie in un brevissimo arco di tempo ed è probabilmente uno dei successi economici più discussi nella storia finanziaria. Una di queste è stata un giovane norvegese che ha investito 26 dollari statunitensi, tanto per fare, e un paio di anni dopo il suo modesto investimento di 26 dollari statunitensi si è trasformato in oltre 850.000 dollari. E' stata una lezione costosa per tutti coloro che, introdotti a bitcoin nella fase iniziale, hanno richiutato l'offerta. Come sarebbe se la nuova tecnologia consentisse a chiunque nel mondo di essere la propria banca senza tasse e spese bancarie? La criptovaluta è basata sulla matematica, un software informatico con un codice condiviso che si collega ad una rete globale attraverso internet. Ma come sappiamo se può essere affidabile? Tradizionalmente siamo predisposti a fare affidamento su terzi fidati, come banche, società di carti di credito e servizi di pagamento, dato che questi tengono traccia del denaro trasferito da uno all'altro e ci vengono debitati costi sorbitanti per questo. Siamo abituati a pagare ingenti somme per qualcosa che potrebbe essere gratuito. La maggior parte delle persone si fida così ciecamente delle banche da pensare che siano sicure, oneste ed affidabili. Ma come sarebbe se esistessero modi più economici, sicuri e rapidi, in grado di eliminare questi intermediari che ci addebitano somme esorbitanti? Molte persone associano tutto ciò con il mercato nero. È in realtà di gran lunga molto più trasparente di quanto si possa pensare. Pensateci, oggi è possibile copiare e scaricare musiche e film online facilmente. E la criptovaluta è digitale, proprio come la musica è di film su internet. Quindi ascoltate attentamente, in quanto è questa la chiave per capire la criptovaluta. Siete sicuri che il vostro denaro digitale non venga scaricato così facilmente come le canzoni preferite? Come può una valuta digitale conservare il proprio valore e non essere copiata online? La cosa interessante è che la criptovaluta non è un file sul computer. È piuttosto una voce all'interno del database pubblico, chiamata blockchain. Provate a confrontarla con le banche odierne. Conservano libri mastro di ogni transazione, con un segno più e meno nei database. Con la criptovaluta i conti bancari vengono sostituiti da un portafoglio elettronico, che controllate solo voi. Il libro mastro di una criptovaluta è la blockchain. La blockchain, o libro mastro di una criptovaluta, registra ogni moneta e ogni transazione effettuata e si bilancia sempre, dato che l'importo delle monete non varia e nessuna moneta lascerà mai il sistema. Quando una moneta viene inviata da qualche parte, ciò che viene realmente inviato è il comando del database, con un codice univoco per quella transazione specifica. Quando vengono eseguite le transazioni, il libro mastro, la blockchain, è sincronizzata costantemente in tutto il mondo. Ogni utente, nell'intera rete, ha una copia identica. E dal momento che la blockchain è pubblica, non può essere controllata da nessuno. Non ci sono punti deboli. Per attaccare la blockchain, gli hacker dovrebbero prendere di mira migliaia di computer in molteplici punti geografici, tutti contemporaneamente. Potrebbe non essere impossibile, ma sicuramente è reso molto più difficile ed è molto più sicuro rispetto all'attuale sistema bancario. L'intero sistema ha il potenziale per sostituire le banche e i banchieri in tutto il mondo. Molte persone sono contente del sistema che hanno oggi, semplicemente perché non lo capiscono. O semplicemente perché non riescono a capire quanto paghiamo al sistema finanziario sotto forma di commissioni su base annua. La criptovaluta è il completo opposto del sistema bancario odierno, in quanto è del tutto trasparento e nessuno può modificare l'importo delle monete o le regole matematiche che regolano la creazione, dopo l'inizio della distruzione del sistema. La criptovaluta è quindi impossibile da gonfiare, dato l'importo limitato delle monete. La criptovaluta ha il potenziale per rendere il nostro mondo più giusto. Oggi miliardi di persone vivono senza un conto corrente bancario, mentre molte di più hanno uno smartphone. La tecnologia della criptovaluta può darvi accesso ad un sistema bancario personale a livello globale. Banking per tutti. La criptovaluta sta al banking proprio come internet stava alla telefonia. La cosa più eccitante a proposito non è nulla che abbiamo visto fino ad ora, ma ciò che ti verrà in futuro. Bitcoin ha avuto un'incredibile svolta e ha reso nota la criptovaluta, ma i pionieri hanno ben presto mostrato la possibilità di ampi margini di miglioramento per il successo futuro. Sono state sviluppate nuove criptovalute ed è cresciuta rapidamente la consapevolezza del nuovo sistema economico. Come potete vedere è estremamente interessante il video che abbiamo appena visto. Ma la cosa più interessante è questo articolo di circa 17 giorni fa, esattamente 12 aprile, in cui è stato ripreso quello che è il più grande investitore di Bitcoin al mondo con quasi 5 miliardi di dollari investiti, tale è Michael Saylor, ma vediamo insieme anche questo video che è estremamente interessante. Michael Saylor ha fatto una previsione straordinaria su Bitcoin, illustrando la sua prospettiva altamente bullish sulla criptovaluta e con una visione a lungo termine il CEO di MicroStrategy è convinto che la moneta possa raggiungere il valore di 15 milioni di dollari a unità, una cifra veramente impressionante. Chi mastica il settore cripto non può non conoscere quest'uomo, una delle persone più influenti in questo panorama. La sua notorietà deriva dal fatto che abbia deciso di spostare tutti i capitali della sua società, di cui possiede il 69% delle azioni, in Bitcoin e altre criptovalute. Secondo il Bitcoin Treasuries, che ci dice quali sono le società che possiedono la maggior quantità di Bitcoin, MicroStrategy è la prima in classifica, con 129.218 monete, pari a 5 miliardi di dollari. Al secondo posto abbiamo Tesla, che si distacca parecchio dalla prima in classifica, con un tesoretto mica male di 43.200 Bitcoin. Spostare tutto in criptovaluta è una mossa molto rischiosa, vista la poca storia che hanno queste monete. Tuttavia, gli istituzionali che decidono di investire in questo asset sono sempre di più, e saranno loro a governare il mercato nei prossimi anni. Oggi voglio mostrarvi qual è la visione di Michael Saylor sulle criptovalute. Ma chi è Michael Saylor? Prima di passare al succo del video voglio mostrarvi brevemente chi è questo strano personaggio. Nel caso sapeste già di chi sto parlando, allora potete andare avanti aiutandomi con la timeline. Michael Saylor, come abbiamo già detto, è il CEO e fondatore di MicroStrategy Incorporated. MicroStrategy è un'azienda americana che fornisce business intelligence, software e servizi. La business intelligence è una disciplina che comprende le strategie e le tecnologie utilizzate dalle imprese per l'analisi dei dati e la gestione del... Nel 2020, Saylor ha deciso di dare un drastico cambiamento al capitale della società, iniziando il suo viaggio nell'universo di Bitcoin. Il suo primo investimento non era affatto di pochi spicci. Saylor ha spostato 425 milioni di dollari in Bitcoin, ed era solo l'inizio. MicroStrategy a inizio mese ha infatti messo da parte altri 4167 Bitcoin, per un investimento ulteriore di 190,5 milioni di dollari, pagando la criptovaluta una media di 45.714 dollari unità. Come abbiamo già visto in precedenza, MicroStrategy detiene la bellezza di 129 mila Bitcoin, più di 5 miliardi di dollari. Ma perché spostare tutti i dollari in Bitcoin? Le criptovalute hanno la caratteristica di essere altamente volatili. Il prezzo sale e scende, possiamo assistere ad impennate improvvise, oppure a crolli vertiginosi. Questa può essere un'opportunità per un trader, che riesce ad operare meglio quando il mercato è volatile. Invece per una società il discorso è diverso, perché quei Bitcoin restano fermi, non vengono utilizzati. MicroStrategy acquista Bitcoin per lo stesso motivo per cui io acquisto Bitcoin e tu acquisti Bitcoin, ovvero la prospettiva a lungo termine, per cui crediamo che la cripto raggiunge un valore più alto rispetto al nostro investimento iniziale. Il CEO crede anche che la volatilità rappresenti una grande opportunità, contraposta alla stabilità dei mercati, che può portare ad una stagnazione finanziaria. La stagnazione è una situazione economica, in cui l'inflazione cresce, ma l'economia resta ferma e il PIL subisce un rallentamento. Ma questo non è l'unico motivo per cui Saylor investe in Bitcoin. C'è una brutta best che ogni anno divora il nostro potere d'acquisto, l'inflazione. L'intero capitale della società è stato per volontà di Michael Saylor convertito in Bitcoin, e di fronte a questo investimento, il CEO ha pubblicamente dichiarato che questa mossa ha lo scopo di preservare il capitale dell'azienda e proteggerlo dall'inflazione monetaria del dollaro. Seguendo il filo del ragionamento di Saylor, avendo 100 milioni di dollari in banca per 100 anni, questi manterrebbero intatto l'1% del loro valore. I Bitcoin invece faranno sì che il capitale di microstrategi cresca nel tempo e sia protetto dall'inflazione, che divora le valute fiat. Il CEO della società, vedendo la politica monetaria della Fed e la pandemia che contribuiva a peggiorare la situazione, facendo salire alle stelle l'inflazione, ha ritenuto necessario sbarazzarsi della sua liquidità e spostarla in Bitcoin. La criptovaluta può essere considerata immune all'inflazione, perché il suo codice sorgente prevede l'emissione massima di 21 milioni di monete. Questo numero non può essere modificato da nessuno, poiché Bitcoin è un protocollo decentralizzato. Ma per quale motivo Saylor non ha preferito l'oro? Un altro bene rifugio che rappresenta una protezione dall'inflazione è l'oro. L'oro è una materia prima, esiste in natura in quantità limitata, esattamente come Bitcoin. Infatti Bitcoin vi è spesso chiamato anche oro digitale. Le banche centrali decidono di tutelarsi dall'inflazione con l'oro. Infatti all'interno del loro cavo sono presenti ingenti quantità d'oro, che costituiscono una riserva importante per il paese. Questa mossa viene ripresa anche dalle aziende, che non possiedono tutto il loro capitale in una sola valuta, ma diversificano per ridurre il rischio. Ogni azienda divide il suo capitale in diverse valute, come dollaro, euro e yen, in partecipazioni finanziarie, in materie prime e anche in criptovaluta. Ma nonostante Bitcoin condivida diverse caratteristiche con l'oro, in quanto bene fisico è deperibile e può essere distrutto. Le criptovalute invece, in quanto beni digitali, sono indistruttibili. Inoltre l'oro può essere anche rubato. Ovviamente è quasi impossibile architettare una rapina in stile casa di carta, però l'eventualità c'è. Invece Bitcoin sono protetti dalla blockchain e possono essere inseriti in componenti hardware impossibili da creare. Adesso arriviamo alla fatidica domanda. Secondo se... Dove arriverà Bitcoin? L'avete visto prima. In quanto tempo? Questo ovviamente non è stato detto, ma verosimilmente almeno dieci anni. Però ovviamente qui sul fattore del futuro si può dire tutto e ovviamente il contrario di tutto. Per precisione attualmente, questo è un video di qualche tempo fa, il Sailor possiede 140 mila Bitcoin pari al valore attuale circa 4 miliardi e qualcosa di dollari. Vediamo qui in particolare, è troppo tardi per comprare Bitcoin, è il solito dilemma. Come potete vedere sulla sinistra, il 2015 era troppo tardi, il 2016 è troppo tardi, troppo tardi. Nel frattempo ovviamente vedete che ci sono i vari cicli, come sono tutti i mercati ovviamente, che hanno avuto però, vedete per esempio dal 2015, in cui praticamente valeva più o meno 300 dollari, è andato addirittura a quasi 10 mila dollari, quindi 10 mila dollari di valore nel 2019 nel giro dei 4 anni. Quindi con un'ottica di 4 anni ognuno ha avuto sicuramente delle ottime soddisfazioni per chi ha creduto ovviamente in questo tipo di valore digitale. Non sei in ritardo per Bitcoin, sei in anticipo rispetto all'istituzione, sei in anticipo rispetto a tanti amici e familiari, rispetto a maggior parte della popolazione, se stai entrando in Bitcoin sei comunque in anticipo. Soprattutto per una questione praticamente culturale, di conoscenza e il mio scopo ovviamente è appunto questo, di poter così condividere con voi questa conoscenza sempre maggiore, sempre più consapevole. Previsioni, ogni tipo di previsione ovviamente è diversa, l'unica cosa che posso dirvi così semplicemente è che 10 aprile 2017 valeva 1201 dollari e ora dopo 6 anni vale 29.354, con la rivoluzione del 2.344 una media annuale del 375%, quindi direi che non è male, ecco assolutamente. Quindi fate un esempio che con 10.000 dollari o 10.000 euro che volete oggi potreste avere un capitale di oltre 235.000 dollari, non c'è ovviamente nessuna garanzia che le previsioni possono avversi, ma ovviamente nemmeno il contrario. Ma vediamo i principali analisti, portali che potete trovare anche su internet, di quelle che sono le loro opinioni e sulla base di questo ovviamente farvi una valutazione vostra personale se è il caso ovviamente di così acquistare Bitcoin o meno in una prospettiva futura di crescita. Investimenti in crescita, l'analisi tecnica dice compra, quella fondamentale dice compra, le opportunità sono alte, a breve 35.000 dollari di valore, 45 nel medio e 60.000 nel lungo. Qui addirittura c'è stata questa previsione del 18 marzo 2023 da parte di questo signore Billy Bambrug, collaboratore senior che ha addirittura fatto una previsione assolutamente azzardata che in 90 giorni, quindi 18 di aprile, 18 di maggio, 18 di giugno, diciamo giugno, entro giugno dovrebbe poter raggiungere un milione. È verosimile, lo ritengo poco probabile, però per dirvi semplicemente che le opinioni possono essere addirittura diverse in funzione ovviamente di una crisi bancaria che potrebbe causare un forte terremoto a Federal Reserve e soprattutto anche per quello che è il IBRICS, cioè il blocco composto ovviamente da Russia, Cina, India, Brasile e Sudafrica per ora in tutta una serie anche di altri 16-17 paesi che hanno dato un'adesione per parte di questo blocco che potrebbe fare tracollare il vero senso della parola il dollaro con tutte le sue evidentemente conseguenze. Altri punti di vista di Coin Codex, come vedete, altri tipi di punti di vista nel medio e lungo periodo, come potete vedere, 2024, 2025, 2026, se guardiamo il 26 andiamo da un 60 a 2.650 dollari addirittura a 564 mila dollari. Non tutti sono rialzisti, ovviamente ci sono anche persone che potrebbe cadere perché tutto ovviamente è possibile e fino a 10 mila addirittura la banca, la Standard Reserve su Bitcoin, ma questo ovviamente è un palese complito di interessi in cui si cerca di denigrare il concorrente per cercare di incutere timore o paura e per cercare di disincitivare le persone a diversificare o comunque a detenere nel proprio portafoglio un Bitcoin o una frazione dello stesso. Può raggiungere 100 mila entro 2023? Verosimilmente sì, è possibile anche in funzione delle considerazioni di carattere economico riguardanti il dollaro e l'inflazione soprattutto negli Stati Uniti, per come ho detto precedentemente. Un milione entro 2025? 2025? Oddio, qui ovviamente tutto quanto è opinabile, nel senso che uno può dire tutto il contrario di tutti e tutti e due hanno ragione affinché ovviamente l'evento non sia vera o anche il contrario di esso. Potrebbe essere, tutto può essere, chiaramente stiamo parlando comunque da qua al 2025, quindi nei prossimi due anni e mezzo. Ma c'è chi ovviamente azzarda in maniera importante, però colui che lo esprime è questo G.C. Myers, è un fund manager del Protocol Capital che ha, così, espresso il 5 di aprile di quest'anno, una previsione molto importante che potrebbe raggiungere addirittura 10 milioni nei prossimi dieci anni, più o meno. Però è interessante così osservare anche questo punto di vista. In finale, mi permetto di ricordare che finché continuerai ad ascoltare i denigratori e le persone negative, ti resterai solo di continuare la tua vita con il dubbio e mantenendo ovviamente le proprie convenzioni e i propri investimenti. La vita è il valore, non sono falci per nessuno, ma se non provi a cambiare ti resterai la certezza di non aver provato a farlo. E aspettare il momento giusto è da folli, perché il momento giusto non è domani, è adesso. Perché ricordi che l'opportunità lasciata passare non è mai persa, verrà trovata qualcun altro. Vi ricordo, naturalmente, che ci sono stati qualcuno, che sono stati avvicinati, che ho avuto anche la fortuna di conoscere quando il bitcoin valeva 400, quando valeva 500, quando valeva 1000 dollari. Adesso, nonostante tutte le incertezze, nonostante il mercato estremamente volati, la difficoltà comunque dal punto di vista culturale di accettare, conoscere e essere consapevoli del valore di bitcoin, comunque vale intorno ai 29.300 dollari. Questi sono una serie di corsi che posso mettere a disposizione, nelle varie tematiche, dai più basilari alle più avanzati, dalla legalità, dalla fiscalità, dal corso base, dal trading, il CFD e anche, ovviamente, cosa sono gli exchange, come fare impresa con bitcoin, perché si può anche fare impresa, come vedete, comprare è una interessante esperienza, cos'è il network market nel mondo digitale, bitcoin d'intorno. Vi ringrazio ovviamente per l'attenzione, sarà mia cura, ovviamente, ripetere o comunque integrare altre informazioni nel mio canale, per dare la possibilità a tutti di conoscere in maniera un attimino più approfondita quello che è il mondo bitcoin, mondo del valore digitale, e l'astraordinario colpo di genio, come ha dichiarato il vicepresidente David Andolfatto della SEC, addirittura dell'organo di vigilanza americano, ancora nel lontano 2014, che alla domanda cosa ne pensa di bitcoin, disse semplicemente stroke of a genius, un colpo di genio. Con questo io vi saluto, vi ringrazio naturalmente per l'attenzione e vi rimando per quanto riguarda al prossimo appuntamento da Valerio Rossi di Viera Finanza Smart Education School. Buona serata a tutti, buona continuazione e resto a vostra disposizione per qualsiasi informazione e necessità. Arrivederci, grazie ancora.